ci siamo ci abbiamo fatta ciao a tutti buonasera le piccole difficoltà tecniche non mancano mai ovviamente però oggi impariamo come sistemarle perché stasera abbiamo qua andrea ciao a tutti che è della crew di arcade story ed è diciamo il braccio il braccio che usa la chiave inglese che usa lo stagnatore ecco sì e anche un po la mente perché per andare dietro queste cose veramente ci vuole un certo livello di conoscenza possiamo dire ma non preoccupatevi perché abbiamo preparato una lezione per tutti quanti voi così non starete lì come delle scimmie davanti al computer che non capiscono nulla di quello che sta succedendo come è capitato a me prima e potrete capire cosa è che andremo a fare oggi lascio la parola andrea che vi spiega tutto il procedimento e vi faremo vedere qualcosa di interessante che magari non sapevate speriamo allora ragazzi ciao a tutti intanto questa è una puntata come è stata già presentata un po diversa dal solito perché sarà una lezione più tecnica cercherò di non essere assolutamente noioso e cercherò di non andare troppo in tecnicismi naturalmente mi aspetto che qualora voi vogliate mettere le mani su questo tipo di apparecchiature abbiate un minimo di conoscenza su quello che possono essere le grandezze elettriche cioè se vi parlo di volt di hertz di corrente insomma un minimo dovreste saperlo cercherò magari di rendere la lezione abbastanza interessante e anche proprio per i neofiti che non sanno praticamente nulla di elettronica oggi vi vorrei parlare del dispositivo che è quello che vi permette di vedere il gioco il monitor crt cioè il monitor a con tubo a raggi catodici quindi crt sta per cathodic ray tube che sostanzialmente una ampolla di vetro ecco il principio era già noto già alla fine del 1800 quindi stiamo parlando di un dispositivo che ormai sta andando completamente in disuso però è stato il l'unico dispositivo di visualizzazione in tutto il ventesimo secolo quindi partito in bianco e nero poi sviluppato colori poi hanno cercato di migliorarlo al massimo però poi inevitabilmente per il peso per le sue problematiche per le sue limitazioni ha dovuto cedere il passo alle tecnologie lcd plasma e quant'altro o led ormai ecco piccola appunto ricordo che comunque in ambito competitivo videogiochi eccetera era comunque stato è stato usato fino al tardo 2000 certo come prima fino anche di sicuro 2008 perché aveva un refresh rate numero di una latenza molto rispetto agli lcd tecnologie moderne è vero e vi dico anche perché perché essendo un apparecchiatura completamente analogica andava a non doveva processare i dei dati come fanno delle macchine digitali come l lcd lcd deve fare tutta la sua operazione di conversione e dopo farvi vedere i vari pixel qui il processo è più grezzo ma molto più veloce per cui diciamo per molti anni hanno continuato a essere le apparecchiature di output migliori quindi andiamo un po nel dettaglio di cosa possiamo trovare dentro questa apparecchiatura qua come vi dicevo è un'ampolla di vetro proprio banalmente eccola qua questo è proprio vetro e davanti abbiamo lo schermo quello che voi vedete e dietro c'è quello che si chiama il collo quindi il neck dal neck partono poi diciamo poi ve lo spiego nel dettaglio comunque parte un fascio di elettroni che sarà quello che poi vi permette di visualizzare l'immagine diciamo tecnicamente è un po complesso però è anche molto utile da capire in buona sostanza abbiamo un sistema lavora un po come il principio delle vecchie valvole termo ioniche cioè tutti quei dispositivi elettronici che sono nati all'inizio del secolo e che poi vi hanno permesso di cioè ci hanno permesso di ascoltare la radio le prime televisioni diciamo questo è forse l'ultimo l'ultima valvola se vogliamo chiamarla così che è riuscita a resistere fino praticamente agli anni 2000 perché dico che è una valvola perché ha proprio i componenti tipici che si trovavano nelle valvole termo ioniche ovvero è un sistema adesso non vorrei sconfina cioè andare troppo sul tecnico comunque è un sistema a catodo caldo che emette un fascio di elettroni vediamo cosa qui lo vediamo molto bene anche proprio una sorta di spaccato e quindi ve lo vado ad illustrare qui è proprio il nec la cosa che vediamo qui qui abbiamo un un filamento che si chiama iter che forse chi ha avuto già l'occasione di poter vedere un monitor acceso qui si forma un piccolo bagliore arancione che già ci dice che il monitor sta lavorando lì proprio è come una piccola lampadina una resistenzina che ha il compito di riscaldare l'elemento che gli sta vicino che è il catodo qui c'è il catodo qui davanti e lungo il percorso ci sono degli c'è l'anodo e è questo praticamente questa la differenza di tensione che c'è tra questi due punti qui porta degli elettroni a sparare verso lo schermo allora per spiegarla ai non tecnici vi posso dire che questo qui viene chiamato pennello elettronico praticamente un fascio di elettroni viene messo dal nec dal fondo fino davanti allo schermo gli elettroni non si vedono sappiamo tutti è vero cosa sono gli elettroni gli elettroni sono una parte che compone l'atomo che ha carica negativa quindi sono delle particelle ecco senza andare troppo in una lezione di fisica sono delle particelle viene fatto proprio un fascio di particelle molto sottile che va a sbattere fino dietro lo schermo ok davanti lo schermo noi abbiamo dei fosfori cioè e viene depositato uno strato di fosfori cosa fa il fosforo riceve l'energia delle dell'elettrone e lo trasforma in fotone cioè in luce quindi praticamente quando qui viene colpito dal fascio di elettroni emette della luce e noi lo vediamo a schermo naturalmente abbiamo bisogno di muovere questo pennello elettronico lungo tutto lo schermo per generare l'immagine e poi vi spiegherò come quindi è per colpa degli elettroni che c'è tutto quello statico sul vetro esattamente esattamente tutto questo movimento di elettroni forma una elettricità statica quel frigirino che sentiamo davanti lo schermo e generiamo statica che poi possiamo anche raccogliere con i maglioni e prendere le scosse esatto e qui c'è una schermatura anche in piombo che evita che l'elettrone possa scappare avanti e diventare una macchina della morte a raggi x quindi diciamo è uno strumento che nasconde anche delle insidie può essere anche letale adesso vi racconterò tutti i segreti per cui anche io vi faccio subito una raccomandazione il famoso non fatelo a casa fatelo a casa se sapete dove mettere le mani altrimenti non andate troppo spavalli con questo parecchio perché ci sono tensioni specialmente qui ci sono la tensione anodica è molto molto alta parliamo dai 18 fino ai 20 e passa 1000 volt dipende anche dalla dimensione del monitor le dimensioni dello schermo esatto e può essere assolutamente letale cioè una scossa presa qui vi può costare la vita quindi state ben attenti c'è un processo che vi farò vedere come scaricare questa tensione accumulata e quindi per poter operare in sicurezza quindi attenzione sono parti in tensione non sono i 5 volt i 12 volt che trovate dentro un computer qui si parla di 110 220 e la letale extra alta tensione quindi attenzione quando si lavora con questo componente che poi vi spiegherò molto bene come funziona questo perché viene generata questa alta alta tensione proprio per mandare a tutta velocità gli elettroni verso lo schermo e quindi abbiamo bisogno di questo campo elettrico molto forte ok ma io vi ho parlato di un pennello elettronico in realtà nello schermo abbiamo anche tanti giochi arcade bianco e nero i primi poi si è passati ovviamente al colore quindi in realtà le informazioni di colore sono tre vi spiego questo in caso non lo sappiate questi tubi sono tubi cosiddetti rgb dove rgb sta per red green and blue e per cui ci troviamo ad avere in realtà tre fasci di elettroni uno per il rosso uno per il verde e uno per il blu questi fasci non sono veramente colorati sono semplicemente ognuno va ad eccitare dei fosfori di colori diversi per cui praticamente il cannone del rosso va a citare i fosfori rossi i fosfori verdi e i fosfori blu adesso vi faccio vedere qui sullo schermo eccolo perfetto come funziona abbiamo i nostri tre fasci di elettroni generati da questi tre cannoni viaggiano lungo lo schermo sbattono in fondo passano prima in una griglia metallica che è nascosta cioè è all'interno del monitor e qui dentro che si chiama shadow mask che serve praticamente a far eliminare diciamo le sbavature e colpire esattamente il fosforo che si trova davanti e questo è il nostro schermo rivestito appunto di questi fosfori rossi gialli e rossi verdi e blu per farvi capire se avete mai avuto occasione di vedere da vicino ecco qua se noi guardiamo lo schermo da vicino vicino con una lente troviamo che non è dei punti neutri ma ognuno effettivamente ha proprio un piccolo fosforo verde rosso e blu questa tecnica è la stessa di un monitor anche di un lcd o di un qualunque altro tipo di monitor in realtà è l'occhio umano che vi fa vedere il bianco il giallo il fucsia tutte tutte le sfumature di colore ma in realtà è semplicemente una somma di questi tre colori principali più o meno forti cosa vuol dire che se io accendo solo il fosforo rosso voi vedete il rosso se però accendo anche il fosforo blu blu e rosso vi fa vedere fucsia se accendo anche il fosforo verde questa combinazione di tre colori vi dà il bianco questa cosa a parte essere una palla mostruosa adesso che ve la spiego però vi sarà utile anche per capire subito un guasto possibile che ha il monitor se vi è mai capitato in sala giochi o anche nel vostro cabinato di casa di trovare una uno schermo a cui improvvisamente comincia avere dei colori strani potete anche già capire effettivamente cosa sta succedendo perché colori strani vuol dire che per esempio vi manca un colore se vi sparisce il verde vi trovate tutto lo schermo che è rosso blu e nelle sue varie sfumature e viola vuol dire che il verde è guasto può essere malauguratamente ha rotto anche il tubo però molto più facilmente è un problema elettronico che possiamo risolvere ecco quindi qui vi ho spiegato un momentino diciamo la generazione di quello che succede nel tubo perché fino a quando non capiamo bene come funziona il tubo non possiamo passare a tutta l'elettronica che lo gestisce allora vi ho spiegato che quindi abbiamo i nostri tre colori che viaggiano con questi tre fasci che vanno ad accendere i fosfori sullo schermo ma come facciamo a muoverli perché altrimenti un sistema statico così noi lo accendiamo e lui farebbe un puntino dritto al centro dello schermo e basta invece noi abbiamo bisogno di muovere questi questo fascio in modo da fare i nostri disegni e come lo muoviamo allora ci sono in realtà nei videogiochi specialmente nei videogiochi vecchi perché poi è una tecnica che è stata abbandonata c'erano due tecnologie la tecnologia raster che è quella che ha generato il 98 per cento dei giochi e poi ci sarebbe anche la tecnologia vettoriale per quella non so quanti una cinquantina di giochi forse un po di più che prevedono la grafica vettoriale lasciamola un attimo da parte e vediamo diciamo la grafica cosiddetta raster il raster praticamente cosa fa e disegna la prima linea poi scende a capo disegna la seconda e tutto quanto fino in fondo naturalmente in maniera molto molto veloce quindi praticamente cominciamo cioè il gioco in questo caso manda la prima le informazioni per la prima posizione qui in alto poi cambia i colori e contemporaneamente si sposta qui li cambia ancora li cambia ancora percorre tutta la riga poi va a capo e ne fa un'altra questo disegno ripetuto molto molto velocemente grazie anche al fatto che i fosfori non è che si spengono immediatamente si spengono dopo un attimo fanno sì che si crei una persistenza di immagine sullo schermo che viene continuamente viene fatto il refresh e vi fa vedere l'immagine quindi noi abbiamo un movimento orizzontale e un movimento in verticale questo movimento viene generato dal gioco eccolo qua che è questo il joke questo stiamo parlando di questa cosa qui non sono altro che due bobine a volte in maniera ottimizzata molto particolare che praticamente cosa fanno all'interno del tubo attraggono spingono o tirano sia sopra che sotto che a destra che a sinistra il nostro pennello elettronico quindi l'elettronica si occupa tramite il gioco di deflessione questo qui di muovere il nostro pennello elettronico in giro sullo schermo secondo il il disegno della raster che vi ho fatto vedere ecco questo è quindi la componente che dà il movimento diciamo del pennello e dietro il collo quindi su questa schedina qua abbiamo ve la faccio vedere poi sulla in un elettronica in più che abbiamo qui abbiamo la generazione del del dei fasci di elettroni in mezzo abbiamo questa cosina qua e sono questi sono degli anelli magnetici che vengono tarati in fabbrica che servono a correggere le gli allineamenti diciamo dei cannoni rgb scusate dei fasci rgb in modo tale che poi sullo schermo non ci siano accentrature perché come vi ho detto prima io per vedere una griglia bianca devo avere il rosso il blu e il verde perfettamente sovrapposto e quindi le correzioni che in delle tarature che vengono fatte in fabbrica vengono fatti con questi anelli e in più poi attaccando questi stick che hanno dei magnetini quindi andandoli proprio a infilare in una operazione che si fa assolutamente a occhio quindi ci vuole l'occhio dell'operatore bravo che tara secondo una procedura questi anelli questi anelli non andrebbero mai toccati almeno questo io lo credevo fino a qualche mese fa perché le operazioni di sostituzione del tubo sostituzione del gioco sembrano cose esclusivamente cioè molto molto tecniche delicate ma antonio mi ha spiegato che in realtà tu prendi il pezzo butti via ne metti su un altro e funziona perché antonio ha delle mani speciali e quindi da un po da un po di tempo non ci preoccupiamo nemmeno più tanto se il tubo non va perché tanto possiamo anche scambiare il gioco quindi smontiamo completamente il tutta la parte di gioco mani anelli magnetici e tutto quanto e lo sostituiamo quindi e poi provvediamo a fare se c'è bisogno la taratura ruotando questi inserendo gli stick e tutto quanto ok bene questo è quello che potevo dirvi vi posso dire ancora una cosa importante che potreste aver avuto questo problema anche a casa sul vostro cabinato o l'avete visto in sala giochi siccome vi ho spiegato che questo tubo è praticamente molto sensibile ai campi magnetici perché tutto è elettromagnetici perché tutti i movimenti del fascio e i suoi funzionamenti sono regolati dall'elettromagnetismo e anche queste le regolazioni sui colori che vengono fatti parliamo di campi magnetici questo è magnetico questi stick sono magnetici vi potrebbe succedere che lo schermo subisce l'influenza di un campo magnetico che avete a casa una cassa di un otto parlante che genera genera un campo magnetico oppure proprio un campo magnetico ambientale così è generato da un campo elettrico e questa cosa vi fa apparire delle macchie sullo schermo queste macchie di solito vengono corrette annullando i campi magnetici generando a sua volta un nuovo campo magnetico che lo fa questo qua questa bobina qua si chiama di the gauss ed è praticamente una una bobina che circonda lo schermo che viene alimentata ad ogni accensione del monitor adesso qui è scollegata praticamente cosa fa genera tutto un campo magnetico attorno che cancella questi campi residui e vi fa rivedere lo schermo con i colori puri senza macchie viola verdastre che ogni tanto può succedere ok e questo era penso l'ultima parte diciamo per quanto riguarda lo schermo con tutti questi campi magnetici elettromagnetici elettroni sparati in giro non diventa un microonde della morte pericolosissimo bravo ok allora si sono accorti forse qualche videogiocatore nel frattempo gli è spuntato un altro occhio è morto e si sono accorti che quando questa tensione diventava troppo alta gli elettroni venivano sparati talmente forti che uscivano e quindi dallo schermo dal davanti si veniva investiti da dei salutari raggi gamma quindi ti faceva le radiografie il videogioco gratis completamente gratis hanno risolto questo problema inserendo praticamente una misurazione di questa tensione quando supera un certo valore non fa partire lo schermo e questa protezione è ovviamente molto utile e nel caso ci sia un problema blocca tutto il funzionamento del monitor quindi è anche una cosa che dobbiamo andare a vedere se il monitor viene bloccato da questa protezione e soprattutto i componenti elettronici che poi andremo a vedere che fanno parte di questa protezione non vanno assolutamente rimossi o cambiati per far partire il monitor perché in questo caso andremo anche ad avere la nostra piccola macchina per gx a casa ecco quindi da non fa cose da non fare bene quindi abbiamo questo nostro se c'è qualche domanda che volete farmi qui specificatamente scrivetela in chat così me la dicono erano tutti professor in realtà nessuno ha fatto nessuna domanda ok sei proprio bravo a spiegare oppure va bene pronto a ricevere anche suggerimenti ovviamente se c'è qualcosa che ho messo o qualcosa avete esperienze buono qualche cazzata che ho detto ecco ma ho studiato tutto questo pomeriggio quindi ore 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 da quando Antonio mi ha detto spiegaci il monitor aiuto bene ok questo è solo l'ultimo dispositivo adesso andremo un po a spiegare quello che è l'elettronica che gestisce il tubo infatti i componenti del tubo questo viene chiamato lo chassis cioè la scheda elettronica e questo è il tubo tutto l'insieme col suo bel sostegno rappresenta diciamo il monitor nel nostro caso insomma il monitor arcade quindi l'elettronica deve quindi accendere il nostro riscaldatore quello quella lucina arancione che vi ho detto prima dare le informazioni di colore ai cannoni elettronici che poi sparano i nostri fasci di elettroni muovere il gioco e generare ovviamente la l'alta tensione che è quella che fa poi sparare i nostri elettroni fino sullo schermo allora intanto vediamo un altro componente vi ho fatto vedere il gioco vi ho fatto vedere gli anelli magnetici vi faccio vedere questo componente ci chiedono com'è che facciamo a toccare il retro del monitor senza rimanerci secchi però non abbiamo spiegato no non ancora novi è proprio perché dalla descrizione di questo vi faccio vedere come fare allora le raccomandazioni per toccare il monitor sono queste togliete sempre tensione quindi scollegate completamente l'alimentazione del monitor il monitor però può rimanere carico di qualche energia perché intanto ci sono dei condensatori molto grandi che possono mantenere per qualche secondo anche della carica quindi in ogni caso non dovete subito andare a mettere le mani immediatamente quello a cui dovete prestare attenzione e come vi dicevo prima è l'alta tensione che c'è sotto questa ventosa questa può rimanere dicono anche giorni perché praticamente così come costruito è come un grande condensatore per cui l'energia non va da nessuna parte rimane immagazzinata sotto vetro per scaricare questa cosa e lavorare con sicurezza dovete prendere un filo elettrico lo collegate alla terra che è praticamente il polo centrale della presa di corrente quindi vi consiglio di farvi una una spina di cui il filo centrale vi prendete la terra la terra la collegate a un cacciavite con il manico molto ben isolato attenzione perché non dovete toccare il filo non dovete toccare niente più il cacciavite al manico lungo meglio è cacciaviti da elettricista cacciavite da elettricista quindi con la parte metallica davanti e con la parte in gomma dietro stando attenti a non toccare nulla dovete andare a infilate sotto la gomma sotto la ventosa fantastico il morsettino è un po piccolo a parte che questo l'ho già spiegato va bene anche un filo di rame collegato ovviamente non dovete toccare il filo di rame avvolgete il filo di rame lo fissate con lo scotch il punto è sempre non toccare nulla e andate ad infilarlo sotto fino a che riuscite eccolo vabbè adesso staccato è bello della diretta e andate a toccare sotto in modo da scaricare verso terra la corrente poi ve lo faccio proprio sentire mi prepara un po meglio lo alimentiamo e faccio sentire sentirete proprio un crepitio proprio una scossa perché qua sotto si ferma proprio un arco elettrico e a quel punto toccate ritoccate meglio una volta in più piuttosto che una volta in meno e avrete scaricato la parte diciamo pericolosa dopodiché il monitor lo potete smontare scollegare tutte le varie parti e lavorare tranquillamente sull'elettronica comunque si sente proprio quando lo scaricate fa proprio una scossa elettrica chi genera questa altissima tensione questa alta tensione la genera proprio il componente più critico dei monitor che è questo trasformatore qui questo è il trasformatore di riga o nel termine inglese il flyback è nient'altro che un trasformatore cioè un trasformatore vuol dire che ha delle spire su un circuito d'ingresso e delle spire un avvolgimento al circuito d'ingresso e altri avvolgimenti sul circuito d'uscita ed è un elevatore di tensione per cui io vado ad applicare una tensione pulsante di un certo valore e ottengo in uscita un valore di tensione molto molto più alta siccome questo trasformatore lavora nel campo dell'alta tensione e quindi è tutto resinato quindi è costruito in maniera tale da sopportare le alte tensioni vuoi il passare degli anni vuoi un cedimento insomma prima o dopo c'è un cedimento nei suoi avvolgimenti per cui si forma all'interno delle scariche elettriche che lo deteriorano in maniera totale questo componente poi non si può più riparare e purtroppo spesso e volentieri con una flyback in corto vado anche a far saltare i componenti che si occupano di pilotarlo quindi diciamo è un componente molto critico ma devo dirvi la verità non è neanche il componente che si rompe sempre cioè non è vero che perché leggo anche su molte discussioni appena uno ha un monitor che non va cambia il flyback sì spesso e volentieri è il flyback però tante volte può essere un guasto ben più sciocco vi insegnerò durante questa lezione anche come capire anche ad orecchio se il flyback sta funzionando oppure no quindi intanto comunque è importante per un riparatore avere anche occhio perché spesso e volentieri i guasti possono essere anche scoperti visivamente cioè se io per esempio ho un flyback con delle crepe spaccato e intanto è molto molto pericoloso andare a metterci le mani col monitor acceso ecco immagino che una domanda che vi sarete anche posti o anche una vostra preoccupazione è posso andare a toccare per esempio i trimmer le tarature anche qui ho due o due cursori diciamo rotativi da toccare posso toccarli al monitor acceso specialmente questi se non andate direttamente con le mani ma usate un cacciavite è meglio perché se il flyback è rotto e qui ho una crepa avvicinando una mano potrei anche prendere una scossa considerevole quindi io vi consiglio le due regolazioni del flyback le fate con un cacciavite da lontano meglio cosa fanno queste due regolazioni allora una si chiama screen e uno si chiama focus vanno ad agire su in questo punto qui del del neck su delle griglie che praticamente con la loro tensione regolano il flusso di elettroni che vi ho detto prima per cui praticamente con la con una griglia io vado a togliere mettere tensione quindi lavoro già anche qui siamo su tensioni molto più alte della tensione di alimentazione e con l'altra riesco proprio a mettere a fuoco il mio fascio di elettroni quindi queste due regolazioni fondamentalmente mi servono per dare più o meno luminosità generale allo schermo per trovare il contrasto giusto diciamo e mentre con quella sopra che lo scrive il focus vado proprio a mettere a fuoco è proprio la messa a fuoco dei scusami di cosa trovo sullo schermo quindi sono due regolazioni sicuramente da fare che vi consiglio di fare con un cacciavite ecco per evitare sorprese se non avete un cacciavite in casa probabilmente questo lavoro non fa al caso vostro ripeterlo allora diciamo se vi posso dare dei consigli se volete iniziare proprio a capirci qualcosa provare a riparare io mi aspetto che voi a casa abbiate un bel set di cacciaviti cacciaviti isolati cosa vuol dire questo può essere adatto fino a un certo punto o una parte metallica va bene perché ce ne sono anche di quelli in plastica comunque di solito in metallo però almeno questa parte qui dovrebbe essere isolata perché quando io vado dentro a toccare qualcosa e con il corpo del cacciavite vado a toccare c'è il rischio di fare dei cortocircuiti allora molto semplicemente scusatemi posso pensare anche di fare una cosa di questo genere posso andare a isolare tutto il cacciavite almeno con un po di nastro in modo da lasciare esposta la parte metallica che può generare dei cortocircuiti meno metallo possibile già questo mi aiuta molto per evitare di prendere qualche bella scossa o comunque di o magari di distruggere la mia elettronica quindi ecco sicuramente questo ancora meglio adesso non mi ricordo dove le ho messe comunque ce le abbiamo ci sono anche dei cacciaviti che hanno la parte diciamo del del taglio in fibra di vetro quindi sono completamente isolati e quelli si può andare tranquillamente anche sotto tensione a lavorare senza problemi per tarare anche delle cose oltre ai cacciaviti pinze tutto quello che può servire per le operazioni meccaniche vi serve almeno un tester digitale e per quelli più tra virgolette pro che possono fare delle riparazioni anche uno oscilloscopio l'oscilloscopio è un apparecchio di misura poi vi faccio vedere qualcosa che vi consente proprio di vedere le forme d'onda e cosa succede a livello diciamo proprio di misure elettroniche all'interno del monitor qualche misura possiamo banalmente farla con un semplice tester con l'oscilloscopio posso andare anche a vedere proprio diciamo intimamente sugli integrati sui transistor le forme d'onda per capire dove il guasto tanto è vero dopo vi farò vedere di solito sui manuali di riparazione c'è proprio una tabella con tutte le forme d'onda dove noi possiamo andare a vedere come dovrebbe essere su un monitor che funziona regolarmente e possiamo confrontarlo con le nostre misure allora io direi che adesso bevo un sorso d'acqua e poi vi spiego elettronicamente ancora una cosa per riparare i monitor se avete l'oscilloscopio che vi fa vedere le forme d'onda meglio sarebbe avere anche un generatore di forme d'onda questo è un generatore di segnale per apposta per i monitor arcade abbastanza economico lo fa un americano che ha capito che c'era la mancanza per i piccoli riparatori di un generatore pratico che facesse proprio quel poco che serve per riparare i monitor arcade e l'ha messo in produzione è utilissimo e praticamente genera dei segnali che poi andremo a vedere che ci servono per riparare il monitor in alternativa potreste usare il vostro la vostra scheda gioco il vostro la vostra pandora il vostro raspberry quello che avete però dovete essere certi che funziona perché altrimenti voi cercate di riparare un monitor magari vi manca proprio l'ingresso video quindi con questo diciamo se riparate spesso monitor come facciamo noi è un apparecchio veramente utilissimo anche perché va a batteria è molto pratico e un'altra raccomandazione che vi faccio se togliete il monitor dal cabinato ricordatevi sempre di usare un trasformatore di isolamento che è questo che di solito è già dentro al cabinato voi lo tirate fuori siete convinti di poterlo alimentare a 220 volt lo attaccate alla presa di corrente poi andate a misurare con un tester o un altro apparecchio o un generatore di segnale che anche lui alimentato 220 bomba atomica tutto rotto il trasformatore di isolamento serve proprio a isolare completamente l'elettronica dal resto dell'impianto della casa in ogni cabinato ce n'è uno e quindi se fate delle misure fuori dal cabinato ricordatevi sempre di usare un trasformatore di isolamento ecco noi in questo caso usiamo anche un altro trasformatore questo qui abbassa la tensione da 220 a 110 perché lavorando sempre con cabinati di provenienza americana hanno l'alimentazione a 120 volt alternati ecco in italia molto spesso lavorerete con dei monitor antarex spesso e volentieri che hanno anche dell'alimentazione o 110 o 220 proprio per adattarsi diciamo ai tipi di dispositivi quindi controllate bene da manuale quello che serve se vanno 220 comunque applicate il trasformatore consigliatissimo di isolamento lo dicono anche sul manuale bene facciamo anche un mini budget ci può fare la svelta qualcosa da dare un'idea a quelli proprio che non ne sanno nulla ma andare a guardare certo beh allora se vi viene voglia di un oscilloscopio addirittura adesso ci sono anche dei tester che hanno anche l'oscilloscopio a bordo cercate comunque di non spendere troppo poco perché comunque vi serve anche un po di quella che si chiama banda passante quindi comunque la caratteristica dello strumento di leggere delle frequenze elevate eventualmente mi riprometto se faremo delle lezioni e avete interesse veramente a dire ma mi interessa l'attrezzatura cosa devo comprare magari cercherò di darvi anche dei consigli giusti magari vi riportiamo il link dove si può acquistare il generatore e poi l'oscilloscopio lo potete trovare tranquillamente in rete ci sono molti ormai veramente prodotti economici e molto abbordabili per un piccolo riparatore una volta a cominciare a riempirvi per uso obistico di questi strumenti sarebbe stato molto oneroso insomma in termini di costi boss come come sto andando bene stanno facendo delle domande interessanti tipo tipo che quando lo accende fa un sacco di rumore oddio ma che tipo di rumore se ci dà qualche indizio in più possiamo dare delle delle risposte allora c'è c'è da dire anche una cosa il la prima riparazione di un monitor si può fare come vi ho detto prima con gli occhi perché vedete ve lo guardate tutto bene con calma potreste trovare delle delle parti specialmente sugli angoli spaccati perché magari ha preso un colpo smontandolo perché magari l'elettronica non era la sua è stata sostituita addirittura anche ci è successo che siccome vengono utilizzati sapete quei perni di plastica dove viene schiacciato su a volte viene schiacciato troppo e addirittura si spezza una una parte del circuito stampato no è che questo supporto qui di vetronite che tiene su tutti i componenti se si spacca ve lo faccio vedere da qua ecco prendiamo prendiamo un'altra elettronica così io mi prendo anche gli occhiali partiamo subito con la con il discorso davidi dell'elettronica vista da vicino allora questo qui il circuito stampato è praticamente la base che tiene insieme tutti i pezzi tra l'altro qui non è una crema se alcuni guasti vengono derivano proprio dalle rotture delle piste di rame che ci sono sotto eccoci qua questo è il nostro è il nostro schema ecco tra l'altro come potete vedere qui questa è un elettronica che ha già fatto la guerra vedete che molte piste sono state ricostruite con dei fili e un apporto di stagno se riesci a vedere ok e proprio perché delle piste si sono o bruciate per un guasto oppure spaccate per una vibrazione e quindi è stato necessario ricostruirle perché questo che vedete è proprio il la congiunzione tra un componente e l'altro con queste piste di rame adesso lo vedete verde chiaro verde scuro perché è stato verniciato nei punti dove la vernice manca vedete proprio che c'è il colore rame queste sono proprio tutte piste di rame e se sottoposte a una forte corrente in caso di guasto si possono proprio vaporizzare rompere spaccare quindi alcuni guasti vengono riparati esclusivamente andando a risaldare o ricostruire delle piste che si sono rotte addirittura una prova che se c'è una un elettronica che funziona e non funziona che ha una cosa intermittente io vi consiglio banalmente di andarvela a picchiettare con un cacciavite mentre è accesa non qua sotto ma intendo così noi abbiamo il nostro monitor che funziona se voi lo percuotete potreste anche con un colpo di fortuna andare a capire il punto dove c'ho una pista interrotta perché nell'attimo che prende il colpo o si mette a posto o si guasta lì è il momento di andare a capire un problema proprio meccanico sulla sull'elettronica non un guasto elettronico per esempio qua ve lo faccio proprio vedere perché un grande classico su queste elettroniche vedete la bobina guardate come balla qui si è rotta il supporto di plastica della della bobina si è rotta allora finché sta così funziona ancora ma se malaguratamente con le vibrazioni si dovesse staccare uno dei due fili della bobina sul monitor è abbastanza palese cosa succede perché abbiamo un collasso orizzontale praticamente l'immagine si schiaccia e diventa una riga in verticale proprio perché tutto l'orizzontale non riesce più a lavorare comunque Mimas ci fa sapere che è un problema audio allora comunque ti posso dire che per un problema audio un grosso rumore vuol dire che di solito si stacca allora se tu senti un forte rumore vuol dire che l'autoparlante funziona l'amplificatore audio funziona quindi magari molto semplicemente si è staccata la massa o un filo all'ingresso e quindi lui amplifica un circuito aperto quindi fa un grosso rumore un grosso baccano quindi bisogna andare a cercare la parte audio i monitor non hanno audio riescono a fare dei bei rumori ma solo durante un guasto o comunque un funzionamento anomalo normalmente sono non completamente silenziosi ma abbastanza silenziosi colgo la palla al balzo per spiegarvi che usando le orecchie potete anche capire se un monitor se sta funzionando perché la generazione dell'alta tensione attraverso appunto il nostro flyback e per variare la tensione deve ricevere all'ingresso un segnale pulsante un segnale alternato la pulsazione che è poi la stessa della scansione orizzontale è 15 kilohertz quindi 15.000 hertz 15.000 hertz è una frequenza ancora audibile lo sentite con un sibilo quando voi sentite un elettronica che fa questo piccolo fischio vuol dire che sta lavorando perché praticamente non che abbia degli atto parlanti ma proprio la vibrazione che causa l'oscillazione di questo circuito ve la fa proprio sentire quindi ve la fa sentire ve la fa vedere perché come avevamo detto prima si genera questa statica per cui alla prima accensione se il circuito funziona tutto bene io mi trovo avere di colpo una formazione di elettricità statica quindi sento proprio un frigger alla prima accensione poi quando lui è caricato tende a non farlo più perché ho già un circuito carico però diciamo alla prima accensione quando magari ho scaricato e poi vado a ricollegare posso sentire questa questa scarica quindi sento fischiare vedo il riscaldatore acceso in arancione vedo la statica diciamo in linea di massima il monitor sta già lavorando anche se non vedo ancora i colori perché magari non ho applicato un segnale eccetera però già è abbastanza sano vuol dire che il flyback funziona che transistor il finale che poi lo vediamo il finale di riga funziona quindi diciamo il paziente potrebbe dare delle soddisfazioni se troviamo un monitor completamente spento che non dà nessun segno di vita è un po più complicato allora nella parte finale di questa lezione vedremo anche proprio di cercare di riparare un guasto e capire un attimo come come lavorare allora passiamo adesso è mai che scoppi qualche condensatore allora sì sì i condensatori specialmente gli elettrolitici sono i componenti più critici oddio scoppiano molto bene quando vengono montati sbagliati invertiti perché hanno una polarità se do il più il meno il meno quel più in tempo niente esplodono proprio fanno e buttano anche l'elettrolita in giro quindi questa volta è quella lineetta no sì 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 in realtà addirittura hanno proprio un pretaglio lo vedi sono tutti se guardi bene hanno già un taglio sopra perché perché siccome all'interno quando si guastano si sprigionano dei gas diventerebbe proprio una piccola bomba e quindi fanno un taglio in modo che si possa aprire e uscire il gas prima che faccia una vera e propria esplosione esatto approfittiamo di parlare un attimo degli elettrolitici e del famigerato recap che sembra la panacea per tutte le riparazioni dei monitor effettivamente molte riparazioni addirittura senza strumenti si possono fare semplicemente con il recap perché recap perché di tutta la... ricordiamo che c'è un bellissimo video su youtube dove io spiego... esatto esatto se non si sente ve lo ridisco andate a guardare Antonio su youtube che spiega... andate a cercare i video... esatto Antonio fa il recap il recap che consiste praticamente recap cioè la recappatura diciamo il restauro cambiando tutti i condensatori elettrolitici dei monitor che sono questi capiamoci tutti questi barilotti che vedete qui ok ve li sto indicando tutti questo anche questo mostro qua e l'elettrolitico è quel componente che più di tutti rispetto agli altri può invecchiare male perché all'interno ci sono dei film delle delle pellicole che sono imbevute di alcune sostanze che diciamo con gli anni possono perdere le loro caratteristiche quindi rispetto a una resistenza che ha un film metallico un condensatore ceramico che proprio si basa su dei principi appunto di componenti molto robusti ceramica o materiali particolarmente diciamo minerali il condensatore elettrolitico è quello che invecchia prima di tutti ecco che diciamo i difetti dei condensatori elettrolitici raramente proprio non vi faranno vedere l'immagine però possono disegnare forti distorsioni possono farvi sparire i colori quindi diciamo una procedura su delle elettroniche molto vecchie molto usata è proprio andare a cambiare tutti gli elettrolitici così proprio senza neanche pensarci su alcuni sono anche contrari ci sono scuole del pensiero anche all'opposto perché perché i condensatori elettrolitici tutti i componenti che venivano montati negli anni 80 non si badava diciamo a spese e questo è il motivo per cui anche dopo 40 anni siamo ancora qua a riparare queste schede vecchissime e i componenti che montiamo oggi difficilmente vi dureranno altri 40 anni perché l'elettronica diciamo in massa in cina la qualità è scesa molti prodotti contraffatti se ne vedono di tutti addirittura dentro un condensatore potreste trovare un condensatore più piccolo saldato dentro cioè c'è di tutto grossi pacchi si prendono purtroppo c'è la contraffazione anche in elettronica per cui voi ordinate il componente in cina vi arriva una roba ma dentro ce n'è un'altra quindi diciamo che più riuscite a preservare i vecchi componenti meglio è francamente io diciamo li proverei anche uno per uno però poi dovreste avere anche lo strumento che prova i condensatori quindi diciamo se avete solo un saldatore e un po di pazienza esistono anche proprio i cap kit proprio i kit già con la marca del monitor io ho bisogno di questo monitor qua c'è il sacchettino con i suoi belli connessatori elettroidici li cambiate tutti e siete tranquilli che almeno quella parte lì è risolta se non risolvete auguri perché c'è tutta una una miriade di transistor resistenze condensatori ceramici poliestere altantaglio è un po di tutto e quindi lì bisogna diciamo essere un po più smaliziati e iniziare proprio una riparazione vera e propria bene allora perfetto spero di non avervi annoiato troppo beh vedo che comunque abbiamo un esiguo numero di spettatori quindi ok meglio le riparazioni che neanche i videogiochi bene allora inquadriamo lo schema con l'elettronica qui vicino e vi faccio vedere proprio come lavora veramente un monitor allora questo è il nostro tubo questo è lo schedino che trovate sul collo che è quindi questa la neck board quindi la scheda del collo da qui proprio abbiamo l'ultimi gli ultimi componenti che regolano i colori infatti se guardiamo abbiamo proprio tre transistor con tre trimmer e questo circuito appunto è replicato tre volte è proprio per l'rgb infatti io qua mi faccio le regolazioni di rosso verde e blu che poi vanno proprio ai cannoni elettronici che generano il nostro segnale quindi questo sostanzialmente è il lavoro della neck board con anche il filo che vi dicevo per i controlli di griglia che arriva due fili che arrivano direttamente qui sulla sulla scheda poi invece sulla sulla piastra generale dello chassis abbiamo allora qui da qui entra proprio la nostra tensione i nostri 110 120 volt oppure 220 insomma calcolate che questo qua questo è un g 0 7 questa elettronica è similare diciamo il principio di funzionamento è uguale un po per tutti i monitor non trovate gli stessi componenti non trovate esattamente gli stessi schemi però in linea di principio lo schema è più o meno sempre lo stesso quindi cosa abbiamo ve lo spiego molto rapidamente molto semplicemente senza tecnicismi esagerati comunque abbiamo il nostro direttamente andiamo al ponte di diodi ecco perché ci vuole trasformatore di isolamento perché altrimenti noi andiamo proprio attaccare direttamente non c'è niente che isola la circuitazione dalla rete diciamo quindi allora qui abbiamo il de gauss l'anello che circonda lo schermo per smagnetizzare che vi ho detto prima poi andiamo al la prima la prima regolazione diciamo passiamo da corrente alternata la regolazione alternata a continua con un ponte di diodi è un condensatore questo condensatore è questo grosso barilotto che vediamo qua quindi da qua io passo dai 120 alternati a 130 sempre più bassa è leggermente più alta per il raddrizzamento diciamo sempre da qua in poi parliamo di continua la continua viene mandato a questo blocco qui che è un alimentatore a tensione costante che viene fatto praticamente con due transistor che poi mi vanno a pilotare il transistor di potenza che è questo qui quindi praticamente questo è quello che è l'alimentatore che mi dà la tensione che poi va ad alimentare tutte le parti del circuito questa tensione viene chiamata B+, proprio B+, varia leggermente tra monitor a monitor ma è proprio la prima cosa che dovrei andare a leggere perché una B+, troppo bassa o troppo alta non fa lavorare bene l'elettronica quindi diciamo una delle prime cose che possiamo andare a misurare è la B+, in questo caso per questo chassis qua è 120 volt in continua andiamo a vedere se lavora da questa tensione poi va in giro ad alimentare tutte le altre parti altri componenti fondamentali qui troviamo questo integrato che vediamo ecco qui sotto è schermato ma lo troviamo qui eccolo questo ma troppo meno dipende ma sulla qualità del video ma diciamo è una è una protezione elettromagnetica che hanno messo che poi in realtà spesso e volentieri la troviamo già tolto perché poi non riesci a lavorare sui componenti quindi viene rimossa e qui sotto troviamo il nostro integrato questo circuito integrato si occupa della generazione dei sincronismi che mi sono dimenticato di dirvi e quindi vi vado a spiegare adesso allora quindi facciamo un piccolo passo indietro e parliamo di cosa diamo all'ingresso di questo monitor allora se non lo sapete lo saprete da da ora il monitor i monitor arcade sono dei monitor rgb con i sincronismi separati cosa vuol dire che io do le informazioni vi ricordate il cannone elettronici rgb ok e infatti io vado proprio a pilotare le informazioni per il rosso per il verde per il blu proprio con un segnale rosso verde e blu il nero è la massa cioè il comune a questi fili e anche i sincronismi e qui ho i nostri sincronismi verticale e orizzontale vi rimando all'immagine per cui praticamente abbiamo detto che mi serve un sincronismo che manda a capo il segnale è un sincronismo che poi riporta a ridisegnare tutto il quadro quindi sincronismo orizzontale e sincronismo verticale questa è un'elettronica che lavora a 15 kHz come vi ho detto prima quindi gli stessi 15.000 Hz quindi 15 kg che ci servono per la sincronia dell'immagine è la stessa che poi va ad alimentare con l'apposito pilotaggio il flyback per la generazione dell'alta tensione l'altra invece in questo caso è a 60 Hz questi valori sono utili da misurare con l'oscilloscopio perché un guasto che vi può capitare riparando delle elettroniche è questa famosa immagine che balla che non si ferma mai cioè che continua a saltare, continua a girare in senso verticale oppure in senso orizzontale lì vuol dire che è stato perso un sincronismo quindi c'è in qualche punto o all'ingresso o lungo diciamo gli stadi fino, eccoli, te li faccio vedere da qua allora, ecco qua, questi sono i nostri ingressi del sincronismo orizzontale e verticale passano un paio di transistor dopodiché fanno tutto il giro e arrivano a questo integrato che si occupa praticamente di leggerli e di generare le frequenze appunto di sincronismo verticale e orizzontale quindi praticamente se io mi perdo il segnale per strada l'integrato poi non è più in grado di generare correttamente i suoi sincronismi interni allo chassis e quindi ho l'immagine che non sta mai ferma perdo appunto un'immagine senza sincronismi e una che salta spesso in verticale oppure non riesco più a sintonizzarlo in orizzontale andando poi ancora a vedere, qui abbiamo, eccola, questa è il nostro flyback, il nostro trasformatore di riga questo qui che vi ho spiegato prima, ecco, questo è questo il suo pilotaggio è affidato a questo grosso transistor che è qua che è un po' quello che fa il lavoro sporco di tutto lo chassis questo è quasi il cuore del sistema in questo monitor se si rompe questo abbiamo che non funziona praticamente più nulla intanto perché se va in corto lui mi trovo avere tutta l'alimentazione sovraccaricata per cui non funziona niente ma a sua volta abbiamo visto che questo qui è un trasformatore però vedete che ha moltissimi piedini perché in realtà lui ha diversi avvolgimenti secondari e li vediamo qua che vanno ad alimentare altre zone della nostra elettronica quindi se non viene generata la tensione che va ad alimentare il flyback tutta l'elettronica alla fine ha dei problemi di funzionamento quindi il cuore del sistema è sicuramente questo che si chiama in inglese l'HOT cioè Horizontal Output Transistor che qua noi lo chiamiamo finale di riga quindi tra finale di riga e trasformatore di riga qui è il cuore proprio pulsante a 15.000 Hz dell'elettronica quindi dobbiamo essere sicuri che questa parte qui funziona dopodiché questa è per la parte orizzontale perché vi ho detto che la sezione con il gioco orizzontale nel senso che quello che muove il pennello sull'asse X diciamo in orizzontale è regolato da questo circuito il verticale invece viene pilotato da questa coppia di transistor che sono questi due qui questi due qui si occupano del movimento del pennello in verticale qui sono fatti così più avanti negli anni intendo sono stati sostituiti da un altro circuito integrato cioè un blocchettino con tanti piedini che fa molte più funzioni diciamo di questo di questo verticale che è piuttosto rudimentale per completare diciamo quindi abbiamo detto alimentazione, sincronismi una sezione per l'orizzontale una sezione per il verticale il flyback manca quella che è praticamente il pilotaggio diretto dei colori dagli ingressi che abbiamo visto prima rosso, blu e verde ci sono un po' di transistor che li amplificano dopodiché vanno sui finali dei colori che sono sulla neckboard questi sono quegli integrati che vi ho fatto vedere prima con l'aletta perché lavorano con tensioni un po' più alte dovremmo essere forse sui 70 volt circa che poi vanno proprio a pilotare il nostro tubo ecco quindi diciamo conoscendo un po' cosa succede all'interno della nostra elettronica possiamo capire anche i guasti perché possiamo avere come vi dicevo all'inizio un po' che ne abbiamo parlato un monitor completamente spento potrebbe sì avere un problema con il flyback cioè si è rotto il trasformatore di riga oppure si è rotto l'HOT cioè il finale di riga che lo pilota oppure andando indietro potrebbe essere guasto l'integrato che genera il segnale che pilota il transistor che fa andare il flyback oppure ancora i componenti diciamo che girano attorno a questo integrato sono guasti un componente un po' critico che abbiamo trovato è un condensatore al tantaglio che è questo questo piccolo questo simpatico componente qui eccolo qua questi sono condensatori al tantaglio anche questi un po' come gli elettrolitici sono un componente un po' critico e siccome quelli aiutano proprio la generazione delle frequenze nell'integrato se se ne va quello non riuscite più a metterlo stabile quindi anche quello è un componente critico che vale la pena al limite di cambiare se avete problemi di sincronismo prima di passare all'atto pratico e finalmente sistemare il monito consiglieresti di andare a cercare il problema a monte o partire magari da qualcosa di più specifico nel senso provo subito a sostituire eh certo allora sì sì vero allora chi cerca di riparare un monitor senza attrezzature e senza schemi addirittura cioè è bello io cerco sempre di lavorare nella situazione più comoda possibile ovvero ho lo schema ho addirittura le forme d'onda quindi so in qualche punto preciso cosa devo andare a leggere con l'oscilloscopio ho il generatore di segnale ho i tester ho tutto così lavorare sui monitor è divertente e anche facile se non ho niente di tutto questo cosa posso andare a fare oltre a fare il recap per cercare di far partire l'elettronica allora sì si può fare anche una tecnica abbastanza diciamo alla cieca però tante volte può funzionare quindi io vado a prendere prendo la mia bella elettronica gli cambio la regolazione diciamo dell'alimentazione quindi il transistor più grosso che fa l'alimentazione cambio il flyback però costa anche un componente che non è facilissimo da trovare però lo cambio cambio il suo transistor cambio l'integrato che gestisce i sincronismi e già che ci sono cambio pure il transistor del verticale diciamo vado a cambiare tutta la parte di potenza e insomma c'è una buona possibilità che ce la faccio però è chiaro che se il mio problemino è una resistenzina un componentino un po' che sfugge alla prima ricerca guasti ho speso 50-60 euro di pezzi e ho anche di più mi dicono da quelli che li compra e non risolvo il problema quindi io come tutti i lavori c'è da prestare tempo e pazienza come l'automobile con il suo bel rumorino oddio chissà cos'è tante volte neanche il meccanico bravo lo trova quindi insomma è chiaro che le schede sono piuttosto complicate e quindi c'è bisogno di una certa di una certa esperienza anche per capire i soliti guasti ormai ci sono dei guasti che li riconosciamo quasi quasi al volo allora vi faccio già che avevo preparato vi faccio vedere ancora ecco qua così capiamo subito dimmi parla si parla girata ok certo scusate e vi faccio vedere due forme d'onda che sono proprio i nostri sincronismi eccoli qua praticamente come vi ho detto prima il generatore mi genera delle immagini prova da mandare allo schermo adesso vi faccio vedere proprio i due sincronismi visto che viaggiano separati come vi ho detto prima ci sono proprio due fili uno per il verticale uno per l'orizzontale ed ecco che li vediamo qua quello sotto è a 15 kHz quello sopra è a 60 Hz vedete che sono più spaziati questi insieme con le informazioni che sono la nostra vera propria immagine vengono mandati al monitor se vi manca uno di questi o se vi manca un colore vedrete o i colori alterati o un'immagine appunto che balla sempre e non la riuscite a fermare quindi ecco diciamo l'oscilloscopio è sempre molto utile anche perché vediamo di farvi vedere sul manuale ecco questo è il manuale del G07 che abbiamo trovato online e vediamo se qui ci sono le forme questa è la procedura per la regolazione degli anelli magnetici che vi dicevo per mettere bene allineati i colori e poi c'è anche una spiegazione e vediamo se questo ha le forme d'onda forse questo non ce le ha sono qua su quello c'è vediamo se no mi ricordo che ho fatto anch'io qualcosa eccolo qua perfetto ecco quello che si diceva praticamente per la riparazione con la strumentazione mando dentro un segnale campione diciamo nell'elettronica e dopo nei punti che sono indicati come test point io vado a collegare la sonda dell'oscilloscopio e mi aspetto di trovare delle forme d'onda fatte così se non le trovo nel punto in cui mi aspetto vado a monte e vado a cercarmi queste qua sono tipo delle immagini test se non ti esce questa roba qua c'è scritto sotto vuoi controllare quel pezzo lì esatto non c'è scritto questo ma ti dice che tensione e che frequenza ti dovresti aspettare se non la trovi è chiaro che questa è rivolto all'elettronico riparatore che se ne occupa se io non trovo in questo punto la tensione cioè la forma d'onda fatta così devo andare a monte a cercare perché non mi viene generata ecco e quindi è una ricerca guasti molto spinta ma è quella che ti porta sempre a un risultato perché cercando bene tutto alla fine il guasto lo trovi come vi dicevo prima se invece non hai a disposizione la strumentazione devi andare un po' alla cieca ed essere anche un po' fortunato bene accendiamo accendiamo allora verifichiamo che sia tutto in ordine e proviamo a vedere allora stacchiamo questo allora e poi concludiamo perché ok siamo abbiamo sforato siamo sopra l'ora bene comunque vedo che è molto molto interessante rispetto alle cinferme che facevamo a scuola ne facciamo altre dopo ok allora quando dobbiamo riaccendere un monitor specialmente se abbiamo scollegato l'elettronica per poter lavorare attenzione soprattutto alla ventosa che sia ben collegata non deve venire via perché sennò qua i fuochi d'artificio perché parliamo di alte tensioni il gioco le bobine di deflessione del gioco x y devono essere collegate deve essere collegata la massa la massa che dallo schermo va collegata alla neck va collegato un ingresso l'alimentazione è collegata bene quindi diciamo collegate tutte queste cose possiamo pensare di accenderla trasformatore di isolamento orecchie è attaccato il video di me il generatore è collegato collegato bene e quando date tensione vi consiglio di avere sempre pronta la spina perché se c'è un cortocircuito o un problema e lo lasciate alimentato più lo lasciate collegato più danno fate quindi state pronti con un interruttore che potete accendere o spegnere perché se purtroppo qualcosa è andata storta più lo tenete e più c'è rischio di incendio quindi ok allora vediamo cosa succede a questo monitor che dovevamo riparare si è sentito si è sentito avete sentito la scarica quindi adesso vediamo di capire cosa vediamo abbiamo una riga abbiamo un problema Houston mi sa che è verticale ok questo è un tipo un tipico guasto che succede da cosa possiamo vedere qui il pennello non sta fermo ma si muove almeno in orizzontale però non si muove in verticale questo si chiama collasso verticale è un guasto che vi può succedere allora rispengo tutto se andiamo a vedere lo schema ma magari neanche no ma comunque se noi andiamo a vedere come funziona il circuito del verticale abbiamo una coppia di transistor che avevo detto che sono questi qua che sono i responsabili del movimento in verticale quindi la nostra prima operazione se volessimo riparare questo monitor è di andare a provare questi due transistor quindi li smontiamo e li andiamo a misurare un altro strumento di misura che potrebbe servirvi è un prova transistor se non avete un prova transistor potreste anche provarli con un semplice tester scusate io metto sempre le mani avanti perché potreste potrete anche provare le giunzioni del transistor proprio banalmente con un ommetro e magari se ci sarà interesse faremo anche una piccola lezione più avanti di prova di componenti con quello che abbiamo in casa diciamo ok allora lasciandolo avendo cura di averlo un po' spento adesso vi svegliamo siccome non ci mettiamo adesso a smontare tutti i transistor a provarli anche perché una ricerca guasti potrebbe durare delle ore vi svelo il trucco questo guasto l'ho fatto io prima di iniziare la lezione lo amaro proprio allora cosa ho fatto qui ho proprio interrotto una pista del circuito che va a pilotare i transistor e quindi praticamente i transistor non hanno il segnale in ingresso non pilotano il gioco del verticale e quindi ho la mia immagine quindi adesso andiamo a ripristinare questa saldatura e così potremo tornare ad avere il nostro circuito funzionante allora proprio messo si si al volo così tanto insomma tensione l'abbiamo tolta allora adesso mi devo ricordare cosa avevo tolto non mi ricordo più ah eccola là non so se puoi zoomare lì vicino vicino dove ho la punta perfetto vedete questa ok questa è proprio la base dei nostri transistor adesso andiamo a rimettere lo stagno ecco fatto ripristinato vediamo cosa succede sai che roba se non va o comunque ci sto pensando quando si è acceso dopo quando lo richiamo su youtube mettiamo una bella esplosione vediamo adesso cosa succede parte bubble bubble e voilà ecco pronta perfetto ti fanno i complimenti per le nozioni tantissime nozioni che hai fatto molto bene ok eccolo lo vedete adesso il verticale si è riaperto ed il monitor funziona come vedete è bello stabile quindi vuol dire che i sincronismi sono a posto gli ultimi dieci secondi li possiamo spendere visto che adesso abbiamo un monitor acceso allora con il nostro generatore di funzione e inquadra pure lo schermo possiamo andare a generare un insieme di immagini utili per fare i test per testare le sfumature di colore per testare appunto la purezza dei colori adesso voi in video ovviamente vedete un attimo uno sfarfallio perché ovviamente la scansione non vedete l'immagine fatta bene però è perfetto dalla vita reale si vede perfettamente è utile appunto per bilanciare i colori per mettere a posto tutte le geometrie quindi è uno strumento abbastanza indispensabile potete fare anche senza mettendo dentro il gioco però è chiaro che le tarature che potete fare è molto più preciso e veloce e ultima cosa poi chiudiamo queste sono le tarature che potete trovare banalmente sui monitor sempre le stesse sicuramente magari avete già avuto occasione di andare a spipolare con i trimmer e comunque sono le regolazioni appunto che vi permettono di spostarlo sul verticale ingrandirlo stringerlo beccare i sincronismi in modo da stabilizzare l'immagine l'unico un po' fuori da questi circuiti qui su questi tipi di elettroniche è la larghezza orizzontale scusate che si fa con una bobina che è messa lì che è una regolazione un po' più critica per il resto le trovate qui anche tra l'altro la famigerata BPU quella tensione di 120 volt che regola tutto che in questo monitor si regola con questo trimmer qua quindi ecco siccome potreste beccare anche dei trimmer che tarano che regolano le tensioni interne al circuito cercate di vedere se c'è una scritta cosa fanno e non giratele a caso perché potreste fare peggio quindi ecco mi raccomando quando lavorate sui monitor non andate a casaccio ma lavorate sempre con un po' di testa sulla neck trovate come vi dicevo prima l'RGB con i guadagni principali del rosso e del verde e le regolazioni RGB per i colori bene e che ti vorrebbe con la divisa bianca da dottore al prossimo va bene scienziato pazzo bene ragazzi il monitor è stato riparato spero di avervi spiegato di avervi dato una bella infarinata per le domande scrivete pure ad Arkay Story e io avrò il piacere di rispondervi per quel poco che so buona serata a tutti e grazie a tutti per aver partecipato ciao ragazzi ciao ciao a tutti quanti ci vediamo a seconda live ciao a tutti